Ciao a tutti, in questo video cercheremo di capire il funzionamento di Xmind, il software che ci permette di creare le mappe concettuali. Allora innanzitutto qui possiamo vedere che stiamo utilizzando la versione free del software, quindi quella non professionale, quella non licenziata. Andiamo su file, nuovo e qui abbiamo tutta una serie di tipologie di mappe che possiamo utilizzare e scegliere. Abbiamo diagrammi ad albero, diagramma logici, mappe bilanciate e quant'altro. Adesso clicchiamo su mappa e anche qui abbiamo già dei template, dei modelli precostruiti che possiamo editare e riprendere. Quindi abbiamo tutta una serie di mappe come possiamo osservare, cambiano i colori, cambiano i riquadri, cambia anche il funzionamento logico di ognuna di queste. Nel nostro caso andiamo su mappa professionale e qui ci viene di default già creato il primo argomento, quello che qui definiscono argomento centrale. Possiamo quindi cambiare l'etichetta e mettere quello che sarà poi l'argomento centrale e principale della nostra mappa. In questo caso mettiamo penetration testing. Adesso dobbiamo definire ovviamente una relazione a partire da questo nodo principale, dal nodo penetration testing. Quindi possiamo ad esempio inserire un argomento. Adesso abbiamo quindi l'argomento, un sotto argomento rispetto a quello che è il nodo principale penetration testing. E qui ad esempio possiamo iniziare a mettere raccolta delle informazioni. Quindi in questo caso stiamo costruendo una mappa concettuale che ripropone quella che è la metodologia del penetration testing, giusto come esempio. Per cui nodo primario abbiamo messo penetration testing, primo sotto nodo raccolta delle informazioni e secondo sotto nodo scansione della rete. E così via. E così possiamo quindi aggiungere tutti gli argomenti che vogliamo fino ad avere completato questa prima fase. Ovviamente è possibile aggiungere ad ogni sotto argomento un altro sotto argomento e creare così una sorta di alberatura di vari argomenti. Questo perché ad esempio la raccolta delle informazioni, volendo suddividerla ulteriormente, può comprendere quella che è la raccolta passiva, la raccolta attiva, ad esempio, e tanti altri sotto argomenti. Quindi come possiamo osservare qui stiamo infatti adesso definendo quella che è la raccolta attiva. Raccolta attiva, possiamo specificare l'argomento di cui tratterà la raccolta attiva, oppure quali sono i tool utilizzati. Quindi qui per esempio stiamo mettendo ricerca DNS. E così via. Questo giusto per farvi vedere come è possibile a partire da un nodo centrale, costruire poi tutta l'alberatura attorno. E questo ovviamente è un solo esempio di mappa concettuale. Le mappe concettuali possono essere moltissime, possiamo utilizzare simboli differenti, marcatori differenti, possiamo cambiare i colori, possiamo cambiare e stravolgere completamente la struttura. Questo è solo un esempio per farvi capire quali sono le potenzialità di questo software. In questo momento stiamo definendo un'etichetta, ad esempio. Quindi questa è un'altra possibilità. Quindi se dobbiamo aggiungere qualche nota, qualche commento ulteriore, ma che non è un sottonodo ben definito, possiamo utilizzare l'etichetta. Oppure ad esempio il fumetto, come stiamo facendo proprio in questo caso. Quindi stiamo arricchendo il nostro nodo, o meglio la nostra mappa nel complesso, con tutta una serie di altre opzioni. Quindi possiamo addirittura mettere gli allegati, possiamo aggiungere dei commenti audio, importare file di vario tipo. Quindi insomma le possibilità che ci dà questo software sono molte. Ovviamente poi abbiamo tutta una serie di personalizzazioni anche sul riquadro stesso che utilizziamo. Ad esempio il riquadro raccolta delle informazioni può avere forme differenti, ma può avere colori differenti. Possiamo cambiare il carattere all'interno. Quindi insomma quello che dobbiamo fare è un po' esplorare questo software, perderci un po' di tempo inizialmente, per cercare di comprenderne tutte le funzionalità, che sono molte, perché è un software molto completo.